Musica Amici di Storianters, buongiorno, siamo a Carpen, a 20 km al sud di Durazzi, in compagnia di Graziano. Piacere, sono Graziano, sono venuto a vivere qua in Albania, in questo giardino, sono otto mesi che sono qua e abbiamo fatto un trasferimento totale dall'Italia. Vengo da Piacenza, ho scelto anche questo posto perché io già a Piacenza abitavo in campagna, abitavo circa 20 km dalla città e allora ho voluto ancora un posto fuori città. Quindi tu sei un neo pensionato? Non proprio neo perché sono 4 anni che sono in pensione, però ho deciso di fare questo passo, questo cambiamento abbastanza importante, diciamo, è un cambiamento abbastanza radicale rispetto all'Italia. Tu in Italia hai completamente ceduto la tua proprietà e ti sei trasferito pianta stabile qui in Albania. Sì, siamo partiti proprio deciso, ho fatto 3 sopralluoghi prima di venire qua, ho valutato un po' tutte le cose e poi abbiamo preso la decisione di radicarci qua proprio completamente. Conoscivi già l'Albania? No, è la prima volta che sono venuto in Albania, sono venuto a luglio dell'anno scorso e ho fatto 3 viaggi venire a vedere. C'era questa casa di questo mio amico che è un imprenditore, anche lui che è in Italia, albanese, e mi ha fatto vedere la sua casa, è piaciuta e siamo venuti qua. Ecco perché nella vita di Graziano si incrocia questo movimento, no? Cioè dall'Albania all'Italia, questo tuo amico, quindi per fare carriera, oggi è una persona con una zia. Raccontacelo tu la storia di questo tuo amico. Lui ha aperto un'impresa che lavora nelle cementerie e anch'io avevo un'impresa che lavorava nelle cementerie e ci incrociavamo, non sempre, non tutte le volte, però spesso e volentieri ci trovavamo su un cantiero o sull'altro. Parlando così, quando sono arrivato verso la pensione, allora gli ho chiesto se aveva la possibilità di avere un appartamento o qualcosa qua da poter vivere. Loro mi ha detto che c'era la casa sua e allora mi ha detto vale a vedere, se ti piace bene, stai lì, se non ti piace vediamo di trovare un'altra sistemazione, anche perché lui è molto conosciuto qua in questo paese, perché è un personaggio che fa molto beneficenza in questo paese, fa lavorare molti ragazzi di qua, li porta in Italia a lavorare e tutto, allora è molto ben voluto qua. Infatti quando vado in giro che faccio il suo nome, guai, proprio mi manda piccone. E fra l'altro qui è un'area intera in cui è un po' piena di ville e villette di albanesi che sono andati. Vivono in Italia, l'unico problema che hanno è che poi non riescono a tornare perché i figli diventano grandi e diventano grandi in Italia e molti di loro non sanno neanche parlare l'albanese. E allora ormai poi stanno là, scuole, mica scuole, tutte quelle cose lì, ormai la loro vita è là. Quindi in Albania giovani che vogliono fare strada vanno in Italia per creare un reddito migliore? Sì, perché qua il reddito è molto basso, si aggira sui 300-350 euro al mese. Calcolando che la benzina costa come da noi, come in Italia, il rapporto non esiste, via diciamo. E invece come nel caso tuo, chi ha un reddito italiano può venire qui e... E vivere bene. E vivere bene perché la vita costa... Costa un 40% in meno, un buono. Un buon 40% e senza... Poi da pensionato ancora meglio perché qui in Albania la pensione non è considerata reddito ed è a zero tasse. Infatti noi facciamo il visto da pensionati perché noi non paghiamo nessun tipo di tassa. Che tu sappia questo vale anche per gli albanesi? Sì, sì, anche per gli albanesi. I pensionati non pagano tasse. Quindi la pensione qua non è tassata, nemmeno per gli albanesi. Qual è lo stipendio medio di un albanese? Lo stipendio medio è sui 350 euro. Dai 300 ai 350 euro. Poi c'è qualcuno specializzato che guadagna un po' di più ma... Prende un medico, prende sui 500 euro. Questo è più o meno la realtà. E quindi questo ci dà la misura dei costi. Ecco perché poi molti vanno in Italia per crearsi un reddito, poi tornano qua, costruiscono delle belle case e poi ci tornano in vacanza. Qui in estate è come essere a Milano qua. Quindi il tuo amico vive in Italia, ha costruito questa casa per tornarci, la usa molto poco e quindi tu sei... No, lui viene qua quando viene giù per lavoro o viene a trovare il fratello perché i figli non vogliono più neanche venirci in ferie. Quest'anno infatti non è venuto giù nessuno, è venuto giù solo lui per lavoro, è stato qua, sta qui tre o quattro giorni che non lo vediamo quasi neanche e basta. Lo vediamo la sera che facciamo una bella grigliata assieme, questa è una bella... Graziano, quindi tu oggi vivi in questo piccolo paradiso, grazie anche a questa amicizia. Ecco, conoscendo questa persona albanese, la sua famiglia, qual è l'impressione che hai di questa gente, della loro cultura, del loro modo di essere? Io ho un'impressione buonissima perché devo dire che da quando sono qua è come se fosse un familiare loro, proprio quando vengono anche dall'Italia mi invitano a mangiare, ci sono tutti i parenti e ci sono sempre anch'io perché è guai se non vado a mangiare con loro, qualunque cosa abbia bisogno non c'è nessun problema perché mi accompagnano, mi portano dappertutto, se devo andare in comune, se devo andare alla posta, in qualunque posto, io posso solo e esclusivamente parlarne bene. E in genere gli albanesi come sono? Ma io mi trovo benissimo perché in giro sono tutti molto gentili, quando vai nei negozi, quando vai al supermercato, appena male si arrangiano a parlare l'italiano, in qualche modo ci si capisce, però sono tutti molto molto gentili, mai avuto problemi di nessun tipo, sinceramente. Come mai molti di loro parlano italiano? Molti sono stati in Italia, molti invece guardando la televisione italiana, loro me lo dicono, a volte vai al supermercato, ci sono delle ragazze giovani e guardano la televisione italiana e parlo, se no ti succede come è successo a me un altro giorno, lunedì proprio, che sono andato in banca e ero fuori che aspettavo, arrivo un vecchietto, tutto vestito bene, tutto in ordine, mi parlo in albanese e loro gli dico guarda che non capisco l'albanese. Allora ho cominciato a parlarmi in italiano, gli ho detto che ero di Piacenza, allora mi ha detto sei emiliano, serve a localizzare tutto, e ti parlano tranquillamente, qua tutti ti parlano, sono gentilissimi tutti. La vita in genere, quindi, cosa costa a te? Quindi non so, qui non c'è gas, no? Qui non c'è gas, mi costa solo, esplicemente l'elettricità e basta, l'immondizia e la televisione è dentro l'elettricità e basta, poi non ho altre spese, perché l'acqua non la pago, perché ho qui il pozzo, qui dietro c'è il pozzo dell'acqua e non la pago, basta, arriva sull'acqua fresca. E le spese per le bollette? Quale sono più o meno? Io pago, che sono già caro, pago già molto perché avendo una casa abbastanza grande, avendo tutto elettrico, pago sui 70 euro al mese, però finisce lì, cioè non c'è più, non c'è un'altra tassa, un'altra cosa, niente c'è, proprio zero. E quindi te, Graziano, non vivi qui come fanno alcuni, sei mesi, tu vivi stabilmente, tu e tua moglie Antonella vi siete trasferiti qua in maniera strana. Per starci, per starci, no, andare avanti e indietro no, non ha senso, anche perché in Italia, a meno da quello che vediamo, non è che vada tanto bene, poi alla fine. Qua stiamo molto meglio, abbiamo tutta la frutta, le verdure, aranci, mandarini, abbiamo di tutto qua. Perciò ho anche minore spesa giornaliera, diciamo. E fra l'altro, Graziano, qua c'è anche una cospicua, come dire, compagine di italiani, avete un gruppo, gli amici, no? Sì, certo, abbiamo un gruppo di amici, ci troviamo spesso la sera, andiamo a mangiare fuori spesso, anche perché generalmente qua con 10 euro si va a mangiare, si mangia... 10 euro a testa, si mangia... Mangi tutto, pesce, no? Il pesce magari costa un po' di più, vai a spendere sui 15, 18 euro, mangiare pesce, ma se no, se mangi carne così, 10, 12 euro, dipende un po' le cose, diciamo, dipende un po' quello che mangi, o se prendi del vino, allora si alza un po' il prezzo, però non più di tanto, questa è la spesa, più o meno in generale. Tu qui sei a 20 chilometri da Durazzo, diciamo che sei anche un po' immerso in una cultura che è un pochino più contadina di quello del... Che pressione hai? Ci sono delle cose che ti colpiscono? Beh, ancora il lavoro manuale mi colpisce, quando vedo lavorare i contadini lavorano come da noi 40-50 anni fa, hanno ancora il ferro per tagliare l'erba, hanno ancora tanta manualità, tantissima manualità. E in più, però, oltretutto, come dicevo prima, qui non esiste come in Italia, che ti si rompe una cosa e la butti. Qua aggiustano tutto. Ecco. Qui aggiustano tutto, dal telefono alla televisione, a qualunque cosa l'aggiustano, perciò problemi non ce n'è. Quindi la vita è un po' meno consumistica, se vuoi, è più ecologica. E poi si trovano anche tutti i pezzi di ricambio di qualunque cosa, cioè se si rompe la pompa dell'acqua non è che devo comprare la pompa nuova, compro solo il pezzo che si è rotto e basta, li aggiustano. Qui siamo fuori dall'Europa, quindi la moneta corrente non è l'euro. No, è il LEC, oggi, ma qui vanno poi, viene valutato di giorno in giorno. Ad esempio, quando sono arrivato qua, era su un LEC, era un euro, no, un euro era 120 LEC. Adesso, oggi, è sui 116, 117. Quindi ogni 100 LEC sono 0,80 euro, ogni 1000 LEC sono 8 euro. 1000 LEC sono 8 euro, è facile quindi che un pasto costi 8 euro, 10 euro. Dipende un po' da cosa mangi, ma il pasto è quello. Ok. E a livello di cibo, trovi tutto quello che trovavi in Italia? Allora, se vado al supermercato cerco di comprare la roba locale, perché se compro la roba italiana costa, come in Italia, forse di più. Perché, ad esempio, qui si trova tutto, la pasta barilla si trova, ho trovato del vino di Piacenza, per dire, in cantina di Piacenza si trova tutto, però una bottiglia di vino la paghi sui 15 euro. E' importazione. Anche per cui c'è un forte dazio sull'importazione, circa il 20% per sdoganare la merce. E quindi questo influisce poi sul prezzo. Però ci sono anche le cantine locali, che hanno del buon vino, bene o male si trova tutto. Io mi sto abituando abbastanza bene con la roba locale. Anche l'altro giorno, per dirti a mia moglie, ha preso formaggio, adesso non mi viene il nome. Formaggio è urbanese, ma è più buono del nostro. Cioè, dice no, non lo voglio quello italiano perché questo è più buono. C'è una cultura, chiaramente, pastorizia molto forte. Pastorizia qua molto forte e tutto. Però non tagliano la carne, come da noi. Non la sanno tagliare. Gli amanti della carne non la sanno tagliare. Non c'è il taglio di carne che abbiamo qua. Cos'è che non trovi? La bistecca? La bistecca, la bistecca si fa fatica a trovare. Loro tagliano nel male e lo tagliano così come viene. I saccati, salsicce? No, si trovano un po'. Si trova il prosciutto, si trova un po' tutto. Però quello che fanno loro, il taglio della carne, proprio non ci siamo lì. Con il maiale vado un po' meglio perché mangi le costine e così. Allora gli fai vedere. Io viaggio col telefono con sulla figura dell'animale e gli dico che parte voglio. Allora riusciamo a capirci perché poi loro costano tutto uguale. Non è che cambi il filetto. Il maiale costa tot e quello... Costa tot al chilo, qualsiasi cosa tu prendi. Qualsiasi cosa. Cosa costa un chilo di carne di maiale? Un chilo di carne di maiale, 6 sui 700 lec perché è rincarato adesso. Sono circa 5 euro, 5 euro e mezzo. 5 euro e mezzo. Invece a livello di pesce, verdura, frutta... Il pesce io ne compro poco in pescheria perché qui ci sono i pescatori che vado al mattino... Vai alla fonte. Arriva al mare, arrivano i pescatori verso le 9, 9 e mezza. E anche lì che cosa spendi? Lì spendo sui 10 euro al chilo. Qua ci sono musulmani, ortodossi e cattolici. Vanno tutti d'accordo. Non c'è... Si sposano anche tra di loro, anche se sono di diversa religione. Sono molto... La religione è una cosa molto privata. Ognuno ha la sua e se la tiene. Andiamo al bar, andiamo a mangiare assieme, andiamo a bere assieme. Ma benissimo tutto. Però la religione è una cosa che non se ne parla mai qua. Mi raccontavi anche che, per esempio, hanno ancora un sentito ed importante culto dei morti. Cosa che da noi... Da noi non esiste più. In un giorno finisce e si chiude lì. Raccontiamolo un po' perché è importante capire anche... Quando c'è un funerale, c'è il giorno che fanno i funerali, poi dopo i parenti si ritrovano tutti il giorno dopo, dopo tre giorni, dopo si ritrovano dopo 40, si ritrovano dopo sei mesi e si ritrovano fino a un anno. Cioè, vengono sempre ricordati per un anno. Quindi c'è un modo proprio di onorare il fungo. Alla fine, la tua scelta, Graziano, se dovessi dire da cosa è stata determinata, al di là della convenienza che ha un suo valore, chiaramente. Certo, ma la maggioranza è proprio l'idea della detassazione che abbiamo, anche perché in Italia un pensionato dipende poi che pensione ha. Cioè, se ha una pensione modesta, oggi come oggi, penso che farebbe molta fatica a vivere. Almeno ascoltando quello che dicono in giro, è proprio dettata dalla parte finanziaria, la maggioranza. Però anche, ho visto che è anche piacevole via, avendo passato la mia vita in giro non ho avuto grossi problemi. Ecco, dici un po' della tua storia di vita, della tua storia lavorativa. La mia storia lavorativa è cominciata molto giovane, a 23 anni ho cominciato a fare i viaggi per l'Africa, viaggiando continuamente. Perché ti occupavi? Mi occupavo un po' di tutto. Ho cominciato con gli oleodotti, poi sono andato nelle raffinerie, poi sono andato nei movimenti terra. Dipendeva dall'epoca, quando viaggiavo io, non c'erano problemi di lavoro come ci sono adesso. Qualunque cosa andava bene, si viaggiava, si partiva. Ma in tuo specifico qual era? Che ero un tecnico? No, no, io anzi ho studiato pochissimo, ho fatto la terza media, l'ho fatta due volte e me l'ho fatta. Hai voluto capire bene. L'ho voluto capire bene. Poi dopo ho cominciato a lavorare subito, poi dopo non mi bastava quello che ero in Italia, ero giovane, volevo fare qualcosa. Allora sono riuscito a partire per l'estero e lì ho cominciato a viaggiare e non mi sono più fermato. E quindi lavoravi subito, stavi il tuo lavoro proprio di operaio in queste aziende. Ho cominciato come operaio, poi dopo alla fine andavo via come tecnico, ma tecnico di esperienza, non di studio. Ecco. Di esperienza, infatti le ultime esperienze sono state in Libia, che facevo l'assistente a Taliandesi, ai Filippini, tutti quelli che facevamo lavorare. Poi dopo mi sono fermato in Italia, ho aperto un'azienda in Italia, un'azienda di manutenzioni e l'ho fatto per 26 anni. In totale ho lavorato 49 anni, più o meno. E ho aperto questa azienda e facevamo manutenzioni e montaggi industriali. Parliamo di cementerie, trattamento polveri, calce e tutte quelle robe. E quindi per te, Graziano, in fondo muoverti non è stato così difficile? Allora, io quando sono venuto qua la prima volta avevo già deciso, non avevo avuto dubbi. La mia preoccupazione era più per mia moglie, che non è abituata a viaggiare, poi a vedere questi ambienti un po' diverso. E il suo impatto qual è stato? I primi due mesi sono stati un po' complicati, sono stati. Poi dopo piano piano ho cominciato a abituarsi, perché ad esempio noi siamo abituati in Italia, ti serve una cosa, vai lì per mercato, compri tutto quello che vuoi. Qua se ti serve una cosa vai in quel negozio lì. Se ti serve un'altra vai in un'altra parte. Cioè devi fare tutto il giro, magari per comprare le stesse cose che in Italia faresti in un'ora in un ipermercato, qua si metti mezza giornata. Però il tempo non ci manca, bisogna mettere anche quello, via diciamo. Diciamo, per uno che volesse decidere di trasferirsi in Albania, quali sono le cose secondo te che potrebbero impattare così in maniera... Positiva o negativa? Non diciamo negativa, ma insomma avere un impatto da superare. Un impatto da superare secondo me è proprio questi 30-40 anni che siamo indietro come modo di lavorare, come modo di vivere un po'. Perché in Italia siamo tutti ormai troppo abituati a avere tutto. Qua in qualche cosina ti devi arrangiare, ti devi un po' più di menare, così. Ma se no, non penso che ci siano altre cose negative. Logico che quando sei abituato ad andare in Ferrari, poi è difficile tornare con la 500. E' così, però io l'ho superato molto bene, anche mia moglie che nonostante tutto in 7-8 mesi viviamo proprio tranquillamente bene qua adesso. E d'altra parte mi sembra di capire che questi 30-40 anni indietro, così dal punto di vista dell'impatto civile, poi però hanno un impatto molto positivo invece sull'anima delle persone. Sì, secondo me sì. Sono solidali, un po' come era da noi, giusto? Un po' da noi come era da 40 anni fa, quando in paese c'era il pane per uno, c'era per tutti e qui è la stessa cosa. C'è un rapporto umano molto 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 diverso che da noi. Dal lato burocratico è stato un percorso difficile o che consideresti? Neanche più di tanto direi. Perché logico, devi fare quello che loro fanno quando vengono in Italia. devi andare in comune, devi fare la residenza, devi fare tutte queste documentazioni che li fai dopo i 183 giorni. Io in due mesi ho risolto tutto, diciamo. Da quando erano scaduti il 13 d'agosto i 183 giorni, poi ho fatto la detassazione, ho fatto un po' tutto e oggi ho sistemato tutto. Oggi in due mesi... Perché qui, a differenza del Portogallo, che è dentro l'Unione Europea, chiaramente qui siamo un paese extra europeo, no? E quindi ogni anno c'è da rinnovare il permesso di soggiorno, giusto? Dopo, adesso di questo non sono ancora sicuro, ma dopo un due o tre anni, dopo te lo fanno di due anni. Però c'è da rinnovarlo sempre. Quindi all'inizio di anno in anno, dopo due o tre anni... Ti danno ancora qualcosa in più. E quali sono i requisiti per avere un permesso di soggiorno durevole? Quello che facciamo noi è... bisogna andare qui all'ufficio immigrazione, devi presentare le bollette della luce, devi presentare il contratto di affitto, devi fare il documento di una carta di identità, ti danno una specie di codice fiscale, poi con questo documento fai la detassazione, fai tutto il resto. Ci sono anche dei minimi bancari, devi avere un conto corrente? Sì, devi avere anche il conto corrente qua e devi fare arrivare la pensione qua. E devi dimostrare di avere un reddito minimo o no? Minimo ci vogliono circa 10.000 euro per poter arrivare qua. Devi dimostrare che la tua pensione è di circa 10.000 euro. Quindi se uno ha una pensione annua inferiore a 10.000 euro netti, non può entrare, a meno che non ha un reddito supplementare. A meno che non ha un reddito supplementare o che compri la casa, allora lì c'è la casa qua e allora può venire. L'impatto con la burocrazia com'è? Ma non è neanche tanto problematico, diciamo. Una regola, anzi è meglio qua che a me non ti danno l'appuntamento, ogni giorno vai lì, sistemi quello che esiste, ma poi magari devi tornare indietro ancora due volte. Però a differenza dell'Italia, ad esempio che ho un mio amico adesso che è in Italia, deve incontrarsi con l'Inps, è una settimana che è l'anno, riesce ancora a contattare qualcuno, cioè per dire non è che siamo tanto messi meglio in Italia. Qui devi viaggiare un po', ogni cosa devi andartela a fare, vai a fare certificato di residenza, poi lo devono timbrare, lo devono postillare. Ci hanno ancora un po', non è tutto digitalizzato diciamo, però stanno cominciando abbastanza bene. Ci vuole pazienza. Ci vuole un po' di pazienza, ma come dicevo prima, noi abbiamo tanto tempo. Noi che in questi giorni giriamo con un camper, abbiamo visto a Durazzo che c'è un traffico piuttosto caotico, non molto regolamentato. Però caratterizzato da una grande tolleranza, non c'è nessuno che suona, che chiede strada. È vero? È verissimo, basta imparare a guidare come loro. Poi se devi fare un'erettromassa, se devi fare un'inversione a U, loro ti aspettano, non ti suonano. Ti suonano solo se sei sotto un semaforo che devi partire, loro ti suonano. Ma se no, fai qualunque manovra, ti fermi di fianco alla strada a chiacchierare con uno, o aspettano due minuti che vedono che devi partire, se no metti fuori le quattro frecce e passi e vai tranquillamente. Non c'è lo stress qua, non c'è la cattiveria degli automobilisti italiani, diciamo. Sono molto tranquilli. Quindi questo autoregolarsi del traffico può essere un po' uno specchio anche di una società che peraltro si autoregola. Com'è la corruzione qua? Come viene intesa? Come viene vissuta? È una corruzione di pochi verso i tanti o è un sistema così? È un po' un sistema. Qua con la mancia sistemi tante cose. Non sempre, però diciamo in maggioranza con la mancia sistemi abbastanza le cose. Poi diciamo che un'altra cosa molto positiva qua è che non esiste la microcriminalità. Ecco. Qua puoi lasciare la macchina aperta anche a Duranzo che nessuno ti tocca a niente. Non c'è nessun problema. Diciamo che c'è la grossa criminalità, c'è. Qua infatti si vede le mafie o cose così. Basta che guardi in giro che macchine ci sono, cioè vedi che categoria di macchine ci sono tra BMW, Mercedes, eccetera. delle macchine spaventose diciamo e allora andiamo più in alto. Però diciamo a livello che tu a Duranzo vai in giro a piedi alle due di notte e nessuno ti tocca, cioè proprio nessuno ti borseggia, nessuno ti... Questo mi fa pensare che non ci sia un forte problema di droga come in certe nostre aree perché spesso la microcriminalità nasce da quelle cose. Lasce un po' anche... Invece qua no, problemi di... ci sono anche qua qualcuno ma però non vanno in giro per le scatole perché qua poi... Non è un problema diffuso. Qui vengono, quando vengono appresi non è che te li mandano a dire o ti sanno tanti riguardi. Tipo ad esempio quando, ad esempio io quando vado a Duranzo, vado al ristorante, se so che devo guidare non bevo perché qui è zero, la percentuale è zero. Qua se ti ferma la polizia che hai bevuto ti sequestra la macchina, ti porta in galera. Toleranza zero. Toleranza zero, cioè non è che puoi dire dopo no ma ho bevuto solo un bicchiere, qua non te lo permettono, perciò c'è starsi attenti via, c'è andarsi con calma. Una cosa curiosa, parlando di strade che però può fungere un po' da specchio di questa società composita, raccontami quale può essere il pericolo dei tombini? Ah quello sì, il pericolo dei tombini c'è perché adesso non so gli ultimi se riescono a saldarli a terra, però spesso e volentieri qualcuno sparisce. Ci sono gli zingari che sono in giro perché qui come ti dicevo prima, gli zingari non rubano in giro come da noi, non vanno in giro a fare niente. Qui lavorano, però lavorano a modo loro, fanno raccolta di ferro, fanno un po' sulla plastica, tutte quelle cose lì, costruiscono gli ombrelloni per la spiaggia, quelli in canna è tutto, in canna è ferro è tutto, saldano, fanno tutte quelle cose lì, però quando c'è il ferro in giro è pericoloso. Quindi capita che rubino i tombini? Capita che rubino i tombini e sì, lo trovi. E quindi il pericolo qual è? Il pericolo è andarsi dentro con la macchina. Qua Graziano il sistema sanitario com'è, come funziona? Abbiamo il servizio gratuito dell'ospedale della dottoressa che noi abbiamo qua, abbiamo un servizio gratuito. Poi se vuoi le cose ancora, se vai a fare una visita specialistica, ad esempio, io mi servo lì alla Salus, lì vicino a Tirana, per una visita specialistica che ho fatto l'altro giorno da un chirurgo cardiovascolare, ho speso 40 euro per venire dall'Italia, se no spendo 25 euro per una visita specialistica. Il sistema sanitario quindi è sufficientemente buono? Ma io direi di sì. Ed è coadjuvato da un sistema privato molto snello e molto veloce. Io sono andato a fare gli esami del sangue ieri mattina, no, ieri l'altro mattina, sono andato a fare gli esami del sangue, invece di andare all'ospedale sono andato a un privato, ho speso 40 euro alle due del pomeriggio se gli avevo pronti l'esito. Cioè, preferisco andare dal privato, spendo qualcosa però alla Salus, ad esempio, ci sono parecchi dottori italiani, è una bellissima struttura. Ti senti tranquillo. Quindi se dovessi così riassumere un po' questa vostra, tua e di tua moglie, decisione, questo cambio vita, ecco, come la riassumeresti come esperienza? Un'esperienza veramente positiva, devo dire veramente positiva. Ci è voluto un po' di tempo, di adattamento, è normale. Però oggi, come oggi, siamo contenti di essere qua. Forse siamo anche un po' in un'isola felice perché quello che c'è qua lo vedete. Grazie mille per questa tua testimonianza e allora ti invito a salutare. Grazie a voi e spero di trovarvi ancora da queste parti. Volentieri tornerremo. Un pranzo al ristorante lo facciamo sempre. Come ieri. Facciamo. Ciao, grazie. Bilal è il fratello di Tahir, il padrone di casa del nostro amico e lui è un cittadino italiano. Sì. No? Vero? Quando sei andato in Italia? Io sono andato nel 1993. Come sei andato fra l'altro? Con il gomone. All'epoca si andava con il gomone. Pagato il gomone, diciamo 600 euro, 600 euro adesso con euro, 600 euro per sbarcare di là. E come è stata l'accogliente in Italia? Dopo io sono andato a Bari, dopo ho lavorato nella masseria delle mucche, mi trattano bene anche tutti gli altomorani, tutti i paesi diciamo, anche i padroni di là. Ho fatto i documenti nel 1996 e dopo sono andato iniziato nell'edilizio, carpentieria. Io ho lavorato a Brescia di là, in Italia di là, ho fatto tutti i documenti, ho fatto anche le cittadinanze italiane, sono contento che ho fatto, mi hanno dato, sono contento moltissimo. E tuo fratello che in Italia si chiama Alessio? Alessio, si chiamano Alessio. E tu Luigi? A me Luigi perché non capiscono bene il nome nostro quando scrivono. E voi avete là un'azienda? Sì, sì, c'è mio fratello. Un'azienda con quanti operai? Sì, 50 operai di là. 50 operai. Un'azienda che costruisce materiale refrettare. Senti, Bilal, la situazione dei giovani oggi in Albania qual è? Eh, in situazione in questo momento vogliono andare tutti in Italia, tutti in Europa, perché qua non possono vivere. Qua... Gli stipendi sono troppo bassi. Sì, come si vive con 300, 250 euro al mese qui. Senti, quanti come te vanno a vivere in Italia e tornano qui o invece quanti vanno a vivere in Italia e si fermano in Italia? Allora, uno che va in Italia, un giovane, che vede di là, lavora di là e non vuole tornare. Non vuole tornare. Non vuole entrare. Io ho i figli, ho una figlia masca, però non vuole venire qua. Vengono per Natale? Vengono qua, vengono qua, vengono per vedere l'estate, dieci giorni, però dopo non vogliono più venire. Allora, Bilal, facciamo un saluto agli amici che ci guardano dall'Italia. Saluto a tutti gli italiani che mi trattano bene, avevo il fortunato che ho preso anche l'incidenanza. Ti ringrazio tanto, tanto gli italiani. Ti ringrazio tanto, tanto gli italiani che mi hanno un lavoro known se。 Tornare con tutti i italiani. Šilainateate a tutti i italiani che mi trovano. Grazie per la visione!